Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati su campi rossi nerdozzi Siamo qui sminchiati sfavati perché puttana la miseria, puttana Eh? Mettere di registrazione rimanete a puttane, sapete cosa vuol dire proprio puttane? Perché stavamo registrando la partita Intanto poi facciamo un presento il mio amico Elix Ciao Elix, benvenuto Bella, bella Abbiamo la partita, intanto vi spiego anche un po' cosa è successo Quando parte l'apertura voi cominci a spiegare Beh, riassumendo un sacco di cose Appena parte l'apertura cominciamo a spiegare, vai Allora, signori No, aspetta, cancella, cancella, schifo di Kinect Oh, ho detto, ho solo detto troppo Vabbè Allora, signori, abbiamo fatto una mezzoletta di registrazioni Il mio pc cosa ha deciso di fare? Era tranquillo seduto lì, no? Mi fa, oh, ehi Regan, c'è da fare un aggiornamento al pc Rievi del computer tra 12 minuti Io guardo il pc, tipo, no, no, che fai, che fai? Mi alzo, scaravento tutto dalla schivania E faccio rimanda E lui mi chiede, rimanda tra quante? Io, porca puttana, mi stanno ammazzando i zombie Mi fai anche scegliere Rimanda tra quattro ore Perché tra l'altro tra un'ora saremo ancora qui a giocare, probabilmente Sì, infatti Nel mentre Faccio rimanda E poi faccio riavvia ora Cado nel più totale del panico Qui c'è uno zombie che è ciccato Nel panico Mi alzo Rischio di andare a terra Tipo uso mitra di trasporto, faccio puttana del genere E faccio annulla Nel mentre faccio annulla La riavvio La martina sta scorrendo Non sono andato a terra per fortuna Però Ho chiuso Il programma di Audacity C'è la voce Cancellata Nel senso che la parte video a visione c'era C'è, quello c'è Però l'audio è andato, diciamo, a... Come si può dire? A trono Eh, sì, sì 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 Siete persi In quell'audio c'erano due miei bestemmioni Che andavano censurati Eh sì C'erano due bei porchi Vediamo se riesco a non bestemmiare stavolta Ma dubito Eh, dubito Alex Te le bestemmie Siete con... Pane, pane e prosciutto Ma lo po' che c'è qui, Heliox Cosa, no? Tipo bestemmi in faccia C'è... Nooo AAAAAAAH Vaffanculo Non c'era Sì Ma sì che c'era Vaffanculo C'è attivato tipo in mezzo del round Bestemmi Bestemmie L'ho mutato il bastardo Non mutato, non mi sente Ehi, t'ho fottuto Non c'erano i soldi, bastardo Oh mio Dio Apri fuoco Oh mio Dio, i punti Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut FAN CULO FAN CULO FAN CULO FAN CULO FAN CULO FAN CULO LA TORRETTA comunque potresti anche a più la porta potrei hai detto bene vabbè vabbè allora a voglia a voglia di qui è già bello che piamo assoluto io ah tu ci hai trattato che non è bastardo ah sembra più taglio ah sono già quelli elettrici oh merda mi ha chiuso mi ha chiuso no mi ha chiuso ria bastardi non vale non difeso devi scendere al cazzo apri te apri te apri te apri tu apri tu cazzo vuoi che fai 30 punti in più ah vabbè si tratta di punti vabbè vabbè e funziona guardate pigli anche la cosa cazzo vuoi pdv personal no non riesco a prenderlo no come è pdv personal defense weapon arma di difesa personale eh salute oh ho fame l'infezione come è arrivata vabbè 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 colpa di hose è sempre colpa di hose oh counter merda come counter ah il counterizzatore yes yes biatch dammi mille dai dammi mille ma dai no 100 mille volevo vai palestra di merda te l'ho fottu te oh i cani ho trattato la lanza della porta e te l'ho uccisi tutti io cani ma vaffanculo guarda se non me te non porto te non bestemmio guarda te non bestemmio guarda no fregato no ah ah 2 no 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 mi hai fottuto te stavolta la pelle ripiglio no sto per metterla dentro che dopo che fanculo fanculo e si è rotta fanculo 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 ma non ti so di chi ha lui e beh hai dubbi ah io non ho dubbi su fatto che tu aprirai le porte aaa lezzo ste battutine pacco espresso dello spazio bene me lo vado a pigliare anche questo è meglio teoli che è meglio no 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 ancora riavvio ancora riavvio ti rendi conto aaa tra quattro ore figa rimanda oh ora si ragazzi tranquilli stavolta ho premuto il tasto giusto si 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 c'è la gamba di uno zombie qua eh vabbè non mi stuperei più di tanto oh 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 sai che cazzo salti i giongion mi hai fatto buga la cassa ma sei proprio stronzo lo so gli zombie ah eccoli ma porca tra le bite oh ma non muore vado a terra vado a terra cazzo fuori tua madre anche sto per andare a terra ok eh mi chiede non muore il tritore coltellato guarda dove vado qui ah vedo a te il tritore coltellato l'ho fatto per farti un bra oh ma non muoio cazzo quelle coltellate ma a parte non muoio ma non so se hai visto quanti soldi che hai eh si eh potresti anche vedere come atlas su un moto di generosità eh ma io sono disegnati nel ciccio pizzo tele così auto aperto oh bella cosa eh c'è il fuoco ma io non ci credo ma io non dico niente ma cosa te ti vuoi cosa te ti vuoi si servirebbero le ex adesso eh lo so aspetta che pieni zombie bastardo pieni zombie si si pienissimo guarda Pam chompi fammi fare le mire chi dai andiamo di discescare vai ok 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 cosa darmi aveva paura di perdere 200 punti eh beh beh ormai mi conosci no non la dovevi aprirla da qui mia bella il balment 7 ma fanculo fanculo mi chiappa anche questo video fanculo ragazzi per chi non avessi capito questo bonus serve per dare più munizioni più granate per chi non avessi capito eh bene ciao ciao aia 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 aaa un sn6 ooooh da dietro oh mai aia boom ka boom è una brava persona ah no ho i pulzettoni potete avvertirmi ma non te ne ho accorto scusa non ho l'audio della tv e no cristo e porco eeeh tu dici 7 secondi non so che ce la faccio un tempo a finire il round ahia da dietro ahia 7 secondi fatto e lo perdi e perdi helix hai perso nooo spaccole ahia zombie ma io non ci credo a queste queste stronzate pione guarda come sei bellino vaffanculo sono senza exo anche dai ti accompagno che vuoi mi si inculano da dietro intanto e non vuole raccogliere la exo coso eeeh mpc porco a perdere non vai tutti qui non posso curarti se c'è chompi che ti stiaccia ahhh ti ha trippato le gambe sono su chompi dietro camoncino figata con le munizioni infinite si si era lo silenziato ah sono già qua giù che figa usare l'home cosi oh alex te lo lascio a te si si ci dovrei anche credere ah adesso me lo vado a figliare se non muoio prima si si lui è già tipo la sopra che sta per figliarselo comunque no no lo lascio a te si si ci dovrei anche credere guardala guardas guardalo guardala guarda guarda ah non lo lo aspetta nooooo 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 no noi ci credo li sotto non ci credo non ci credo questa è la punizione per trollato no 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 e bene sono vivo non ho manco un caro si ce le mie lapide la giù che bello c'ho... non ci credo si ce le lapide l'avevo vista ma non è possibile ma durante il strecco una volta che sono così non me l'ha ridata NO! Ma uno è chiusissimo ma f***** f***** chiama sentinel e fa qualcosa e si chiama sentinel quali sentinel ah già l'ho presa io sentinel bella ca... oh merda oh merda quanto son pieno Ah già non ho il Jagii, mi sa che ho da terra Un'altra parte Ma che scherzo da profusare Nov 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 no, bestemmio se crefo Faccio il regalo Uuuuh Con l'S 12, con l'S 12 Il macello, la carnetficina di Dempsey La carnetficina, chiamo stati pop 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 buigvin fai honore rete persa Ihre ha adesso ci andare chig enable suabi новa best week Opening仲 maiafunctional b regolicie l'avete capito? che poi è fina non sai perchè hanno messo delle banche perchè? le finestre esatto vanno a sostituzione di finestre che bastardata madonna sono rosso mi paro il culo io che è che ha attivato chompi? anche io madonna che non mi vedo cappio non c'è più nessuno perchè è lento a mirare con questo cazzo di millimeterno punti si adesso qua in camera c'è mio fratello e mia madre l'altro pomodiamo anche la nonna chiamiamo anche il cane si ma la porta della camera non era aperta e gli ops calmo ma tira un porco ma porca puttana troia l'ercia su c'è la p***a vieni il super bip di grecamente vada a teramo vada a teramo vada a teramo ciao stronzi ma ci sono gli stronzi dell'atras vado io vado io è ovvio che vai tu si si va ammazzando questo lì quanti zombie quanti zombie quanti zombie disinnesco vada a più me l'ho chiuso me l'ho chiuso me l'ho chiuso me l'ho chiuso nei 10 minuti che ero con me l'ho parlato di scuola politica di roba da mangiare non so ah di che è morto ah vengono animati ce la faccio ce la faccio ce la faccio ce la faccio oh parco ecco appunto aspetta no non porta sfiga 10 9 eeeh come sei morto ero tipo dentro le gambe degli squali stavo tirando la granata a quella teletrasporta solo che di qui mi sono teletrasportato va bene ci sta ragazzi quindi questa è la primissima puntata di io e Alex da soli ne arriveranno altri con altri due miei amici e molto molto più hilariose eeeh buona città un'ora di partita noi ci vediamo prossimamente settimana bella ciao e ci si vede la frau bella 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 bella